Ed è proprio il Movimento 5 Stelle insieme all'altra Emilia Romagna a promuovere un convegno sul futuro del sistema sanitario nazionale. Oggi la presentazione dell'iniziativa e noi sentiamo le motivazioni dei promotori. Bisogna appunto invertire questa tendenza, cioè bisogna che noi ci rendiamo conto che la spesa sanitaria è la spesa che riguarda un diritto primario. Non è qualcosa che può essere tagliato perché tanto poi in qualche modo si può attraverso il privato, attraverso le onlus, attraverso le assicurazioni raggiungere lo stesso effetto. Questo è un modo di tornare indietro. Vogliamo mantenere il servizio sanitario regionale pubblico accessibile, equo e che segue il principio universalistico sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Un primo piccolo risultato l'abbiamo ottenuto riuscendo ad ottenere l'abbattimento dei ticket grazie ad una nostra risoluzione approvata in Regione nell'ultimo consiglio, non quello che c'è stato ieri ma quello precedente.